È ovvio che bisogna porsi le domande, però poiché mi pare che le risposte siano state chiare, ok? Perfetto, secondo voi no e quindi voi state dicendo che c'è stata una volontà. Scusate, non è un dibattito. Non riesco a capire in che cosa si ritiene? Allora provo a capire il problema, ok? Perfetto, quindi in che cosa si ritiene? Scusi, se non è volontà però, allora, non ritenete che sia volontà, perfetto, è già un passo in avanti, ne sono contento. Quindi in che cosa si ritiene? Al netto delle spiegazioni, diciamo all'indomani delle spiegazioni che sono state date dal Ministro Piantetosi, che è qui anche eventualmente per ridarle, ma che sono state... In che cosa si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva? Allora, conferenza stampa un po' inusuale, nel senso che c'è stato dibattito tra il Presidente del Consiglio e i giornalisti. Come hai visto questa scena inusuale? Un disastro, un disastro politico e comunicativo totale da parte di Giorgia Meloni. Era lecito, magari un po' troppo scaltro, un po' troppo disinibito organizzare un Consiglio dei Ministri a Cutro sull'immigrazione, però ci poteva stare, poteva anche essere addirittura, da un punto di vista prettamente politico, una manovra attraverso la quale la Meloni ne sarebbe uscita ancora più vincente. A me non sembra. Voi avete appena fatto vedere delle immagini che dicono tutto quello che dimostra, secondo me, la sconfitta comunicativa e anche politica di Giorgia Meloni. Intanto l'aria sgomenta di Tajani, che voleva essere ovunque, tranne che lì. Salvini, che mentre si toccano argomenti devastanti, drammatici, sta lì in maniera compulsiva a scrivere sul cellulare. Io vorrei sapere con chi stesse parlando, perché anche per un discorso d'educazione, osservali magari gli interlocutori. E stando alla Meloni, c'era il capo ufficio stampa, Mario Secchi, al suo debutto, che non riusciva a gestire la conferenza stampa, perché tutti parlavano, non è un dibattito, state zitti, la Meloni che diceva no, ci penso io. E la Meloni poi non ha dato risposte convincenti, l'ha buttata sul piano del voi siete convinti che l'abbiamo fatto apposta, cosa che secondo me nessuno pensa, se qualcuno pensa davvero che ci sia stato del dolo deliberato da parte del governo e un pazzo scriteriato, semplicemente resta il dubbio di sempre, che c'era anche una settimana fa, due settimane fa, Luca. Ovvero, non che la Meloni e il governo l'abbiano fatto apposta, ci mancherebbe altro, ma perché la guardia costiera non è intervenuta, sebbene potesse intervenire, avesse i mezzi per intervenire. Tutte queste risposte la Meloni non le ha date, o ha buttato la palla in tribuna, o ha fatto la vittima, o ha spostato il piano dell'attenzione sull'abbiamo fatto un decreto che inaspirà le pene, ma ne è uscita male, al punto tale che ha fatto anche non poche gaffe, che non sono normali per la Meloni. La Meloni può piacere o meno, ma sa parlare, sa comunicare. Ieri si vedeva che era in profonda difficoltà, ha sbagliato le date, a un certo punto ha detto, sì, non sono ancora andata a vedere le salme, le vittime, però ora che è finita ci vado volentieri, volentieri come se dovesse andare a un aperitivo, cioè non era lucida e secondo me l'errore politico è stato notevole, sia comunicativo ma proprio anche politico, perché, e immagino ne parleremo, dalla vicenda di ieri paradossalmente è uscito ancora più forte Salvini, perché tutto quello che voleva la Lega e Salvini in qualche modo l'ha ottenuto, quindi la Meloni ne è uscita male, eppure un po' sconfitta rispetto al suo competitor Matteo Salvini. Eppure un po' sconfitta rispetto al suo competitor Matteo Salvini. Eppure un po' sconfitta rispetto al suo competitor Matteo Salvini. Grazie.